Elena Gubetti arriva al ballottaggio e contenta di questo risultato? Sicuramente sì, ce lo aspettavamo perché in città abbiamo sentito grande stima nei confronti della nostra squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro in queste settimane e quindi adesso siamo pronti a fare una nuova sfida e sicuramente arriveremo alla vittoria fra due settimane. Il ballottaggio si dice che è un'altra partita, è così per lei? È vero, si ricomincia 0-0, palla al centro, ma siamo fiduciosi che sarà una bella sfida, senza colpi bassi, con una nuova coalizione probabilmente che andrà a sostenere il mio nome. Ancora due settimane di Tour de Force, cosa chiede alla città? Chiedo alla città di tornare a votare, di non lasciarsi scappare l'occasione, di rilanciare Cerveteri per un futuro in cui la vedrà protagonista di tantissimi cambiamenti e novità.